Signori e signori, buongiorno. Benvenuti all'Istituto Italiano di Cultura. Benvenuti al tredicesimo convegno dell'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. È un appuntamento annuale dedicato al contributo italiano a scavi, ricerche e studi nelle missioni archeologiche in Turchia. Il titolo del convegno quest'anno, che viene scelto appunto dai direttori delle missioni archeologiche italiane, è la ricerca archeologica per la ricostruzione storica e la valorizzazione del patrimonio. Con questo titolo abbiamo voluto sottolineare i due aspetti fondamentali e strettamente interconnessi dell'archeologia moderna. Dal lato il lavoro sul campo, lo studio e la ricostruzione storica. Dall'altro la valorizzazione del patrimonio, spesso collegata al paesaggio, la diffusione del sapere e la promozione presso un pubblico non solo composto di addetti ai lavori. Per questo motivo, in apertura del convegno, proietteremo adesso un brevissimo video realizzato in occasione della mostra Parlami Terra, Medea in Cappadocia con Pasolini e Maria Callas. Mostra prodotta e organizzata dal nostro Istituto di Cultura, con la missione di studio e restauro in Cappadocia, nell'Open Air Museum di Goreme e nel castello di Ucisar in Cappadocia, dal 10 settembre al 10 novembre scorso. Un evento realizzato in occasione anche delle celebrazioni per il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini. La professoressa Andaloro poi nella sua relazione parlerà diffusamente di questa esperienza di successo. Però, ecco, volevamo darvi una breve pillola, un breve esempio di come le missioni archeologiche possono lavorare sul territorio, con il territorio e come possano diffondere al grande pubblico, anche di non specialisti, il loro lavoro. Prego. 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. il museo. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie 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 a tutti. dei musei. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. un patrimonio. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. i residui. i residui del passato. e a tutti. 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 e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e tutti. da quali problemi. partiamo. e a tutti. e tutti. e a tutti. la ricerca. e a tutti. 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 sono solo. e a tutti. programmi. e a tutti. 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 e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e tutti. e a tutti. e 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 tutti. e... e tutti.